Musica Ercolano Domus sfregiata la rabbia di San Giuliano è stato individuato e denunciato il turista olandese che ha imbrattato con un pennarello la parete di una casa romana nel parco di Ercolano il ministro della cultura parla di ferita alla bellezza e chiede pene esemplari per il vandalo rifiuti tombati nella cava timori per ambiente e salute le indagini sull'interramento di oltre 200.000 tonnellate di immondizia tra cui amianto frantumato a Napoli arrestato un imprenditore accusato di aver provocato il disastro ambientale tra le colline dei Camaldoli fondi di coesione bloccati, tensione regione e governo il ministro Fitto incontra gli industriali napoletani e ribadisce possiamo firmare anche domani il presidente della campagna inaugura l'ospedale di comunità d'Arzano e sfida Meloni basta chiacchiere, sbloccare i 6 miliardi rischia di soffocare bimbo salvo in estremis momenti di paura in una pizzeria di Sant'Agata dei Goti nel Sannio un boccone incastrato in gola avrebbe potuto uccidere un bambino di 10 anni provvidenziale la manovra salva vita effettuata da un'operatrice sanitaria un'altra tragedia nei campi muore travolto dal trattore quattro vittime in poche settimane nel Salernitano l'ultima a Monte Corvino Rovella a perdere la vita un imprenditore di 65 anni schiacciato dal mezzo agricolo che si è ribaltato edilizia e agricoltura e comparti più a rischio caso di Lorenzo nel Napoli ma tutti aspettano Conte il capitano non ha nessuna intenzione di restare ancora in azzurro e si lavora al rinnovo di Paraschelia intanto si muove il mercato in uscita della Salernitana in Serie C delusione per Avellino e Benevento sfuma la finale playoff e questi erano i nostri titoli buonasera ben trovati con l'informazione regionale di 8 Channel in apertura il caso dello sfregio alla Domus degli Scavi di Ercolano il ministro San Giuliano ha chiesto che il turista olandese paghi di tasca sua il danno la rabbia del sindaco buon aiuto a 8 Channel sentiamo ancora una volta i nostri beni culturali sono vittime dell'inciviltà e dell'idiozia in una Domus romana nel parco archeologico di Ercolano lo sfregio di un turista olandese con un pennarello indelebile è una ferita al nostro patrimonio ed è per questo che il 27enne va sanzionato con la massima fermezza così il ministro della cultura Gennaro San Giuliano commenta quanto avvenuto tra gli scavi di Ercolano ricordo commenta intanto San Giuliano che grazie alla legge da me fortemente voluta questo soggetto dovrà anche pagare di tasca propria i lavori di ripristino dell'opera indegnazione e rabbia dunque per quanto avvenuto tra gli scavi il sindaco di Ercolano Ciro Buonaiuto parla di atto vergognoso è un affronto dice non solo alla nostra città e alla nostra storia ma tutta l'umanità questi non sono dei criminali questi sono degli stupidi perché un ragazzo giovane che distrugge un bene che appartiene a tutti non appartiene soltanto all'Italia o ad Ercolano è solo un ragazzo che non è intelligente e dobbiamo dare segnali forti e chiari verso questi civili grazie all'intervento tempestivo della vigilanza del parco e dei carabinieri il 27enne olandese è stato subito identificato e denunciato ora dovrà finanziare il restauro del muro della Domus di tasca propria quello che mi fa dispiacere è che un giovane possa avere un comportamento del genere senza fregarsene come può pensare una persona di scarabocchiare sopra come se fosse un foglio Bristol è una mancanza di sensibilità che mi fa rabrividire la cava dismessa nel parco dei Camaldoli era stata trasformata in una mega discarica di rifiuti tombati e arrestato l'imprenditore che dovrà rispondere di inquinamento e disastro ambientale un territorio prezioso che è stato sfregiato attraverso l'interramento di una quantità enorme di rifiuti che hanno portato al disastro ambientale contestato dalla procura di Napoli all'imprenditore arrestato nell'ambito di un'operazione congiunta di carabinieri del Noe guardia di finanza e polizia locale gli investigatori che hanno anche sequestrato beni per un milione di euro ritengono che nell'ex Cava Suarez nel territorio del parco dei Camaldoli siano stati tombati scarti di ogni tipo molti anche pericolosi come l'amianto frantumato talmente tanta immondizia come era avvisato dagli inquirenti che potrebbe essere paragonata ad un palazzo di otto piani Noi dobbiamo ringraziare la procura di Napoli per questa attività che sta svolgendo perché consente di mettere in luce come le comafie continuano ad operare nella nostra regione e quindi senza i controlli non ci sono altre possibilità di bloccare questo fenomeno malavitoso e quindi dobbiamo per forza riferirci alle forze dell'ordine alla procura noi procederemo costituendoci parte civile però si iniziano percorsi diciamo giudiziari che certamente non risolvono la questione ambientale se non in tempi lunghi L'imprenditore arrestato nel blitz interforze non è nuovo alle cronache già in passato infatti venne rinviato a giudizio proprio per la mancata bonifica della cava dismessa sulle colline di Napoli 4 carabinieri aggrediti ad Afragola in due episodi non collegati tra loro un militare fuori servizio è stato colpito alla testa dal calcio di una pistola impugnata da un rapinatore che ha tentato di rapinare una banca altri 3 militari compreso il comandante di stazione sono rimasti feriti durante una notifica di arresto in carcere per un rapinatore condannato a 18 mesi di reclusione i carabinieri sono stati aggrediti dall'uomo e dalla moglie per poi essere medicati in ospedale voltiamo pagina l'accordo di coesione il ministro Fitto oggi ospite degli industriali di Napoli si dice pronto a firmare anche domani ma le questioni non sono risolte e De Luca rilancia abbiamo vinto davanti al Consiglio di Stato entro il 30 giugno devono firmare intanto ad Afragola scoppia il caso del video con la sottosegretaria Castiello sentiamo torna a Napoli per la campagna elettorale il ministro per gli affari europei e le politiche di coesione Raffaele Fitto ospite dell'Unione Industriali nell'ambito degli incontri a Palazzo Partanna ma in campagna resta aperta la questione dei ritardi sui fondi di sviluppo e coesione per cui la regione ha aperto un contenzioso davanti al Consiglio di Stato incalzato dai cronisti l'esponente del governo Meloni prova a sviare le polemiche e non si sbilancia sulla data della firma dell'accordo con il presidente De Luca prevista per fine giugno per me potremmo firmare domani mattina come oltre il 30 giugno non è un problema di data è un problema di merito come è noto un accordo si firma se sono state risolte tutte le questioni nelle stesse ore il governatore De Luca dal palco di Arzano sui fondi di coesione rilancia chiamando nuovamente in causa la premier Meloni abbiamo avuto ragione al Tribunale Amministrativo e la Campania abbiamo avuto ragione al Consiglio di Stato e ancora non si decidono a siglare l'accordo di coesione che la regione Campania ha mandato a Roma l'11 ottobre del 2023 e al presidente del Consiglio come ho detto da oggi in poi rivolgo una sola domanda quando sblocchi 6 miliardi di euro a vantaggio dei cittadini Campania punto intanto monta la polemica per il video postato dalla sottosegretaria leghista Pina Castiello che insieme al sindaco di Afragola Pannone inneggia alla decima massa fascista al taglio della torta Sandro Ruotolo chiede le dimissioni immediate della deputata leghista e domani Lampi ha convocato sul caso una conferenza stampa ad Afragola a Sant'Agata dei Goti nel Sannio un bimbo rischia di soffocare in pizzeria ma la prontezza di riflessi di Lina operatrice sanitaria che era presente sul posto ha evitato il peggio salvando la vita al piccolo sentiamo un sabato sera spensierato che stava per diventare tragedia che solo la prontezza di un'operatrice sanitaria Lina Ruggero ha trasformato in una storia a lieto fine una cena in pizzeria a Sant'Agata dei Goti e un bimbo di 10 anni che quasi senza che gli altri se ne accorgessero rischia di soffocare per un boccone incastrato in gola mentre stiamo mangiando la pizza mi accorgo che un bambino non mangiava più era fermo immobile la mamma è petrificata che lo guardava in un attimo mi sono accorta che il bambino si stava strozzando era diventato già cianotico viola non respirava all'improvviso di scatto mi sono alzata ho buttato anche la sedia a terra ho spostato la mamma ho spostato le persone che mi davano fastidio per fare velocemente sono andata dietro al bambino scusate e ho praticato la manovra di Heimlich e dopo la manovra di Heimlich eseguita con professionalità e freddezza non nasconde l'emozione Lina un vero e proprio angelo per quel bimbo e per la sua famiglia il bambino ha esfolso questo gomitolo ha iniziato a respirare si è messo subito a piangere mi ha abbracciato ed io ero contentissima di averlo salutato e sensibilizzo un poco tutti a fare questi corsi perché la manovra di Heimlich è importante per tanti bambini grandi per tutti si riparta dalle aree interne e dai giovani per rilanciare l'agricoltura e l'appello rivolto dal presidente regionale della CIA Raffaele Amore nel corso di un incontro con quattro candidati alle prossime europee sentiamo Gli agricoltori non sono un problema delle aree rurali ma una grande opportunità e questo è il messaggio che Raffaele Amore presidente CIA Campani ha ribadito nel corso di un appuntamento dedicato al piano strategico per l'agricoltura in vista delle prossime elezioni europee L'agricoltore e l'imprenditore agricolo si è messo al centro e venga riconosciuto come l'opportunità per le aree rurali e soprattutto mettere in campo delle azioni vere per risolvere il problema delle nostre aree interne All'incontro hanno preso parte anche quattro candidati in corsa per il Parlamento europeo a cui è stato consegnato un documento contenente i dieci punti che si spera possano essere al centro dell'agenda politica di Bruxelles impegno che è stato garantito da tutti gli schieramenti Incentivi per le tecnologie che sono importantissime incentivi per rendere i nostri prodotti non solo buoni ma anche sicuri sulle nostre tavole E' l'accompagnamento e la valorizzazione delle attività agricole che sono una risorsa importantissima per il nostro territorio Riteniamo che il Green Deal sia la morte dell'agricoltura italiana e crede le condizioni di impraticabilità di competitività nei mercati proprio perché è troppo assorbente di posizioni ambientaliste e di ecofollie Dovremmo aiutare la nuova politica agricola comune a rispettare un poco le aspettative del mondo agricolo europeo a partire da una tutela del reddito minimo degli agricoltori Il Parco del Fenestrelle è regionale l'assessore all'ambiente Fulvio Bonavitacola ad Avellino ha illustrato il progetto dopo il via libera della regione Campania che ratifica il protocollo siglato tra i sindaci Il Parco del Fenestrelle è stato riconosciuto come sito di interesse regionale Oggi Fulvio Bonavitacola vicepresidente della giunta regionale della Campania con delega all'ambiente è giunto ad Avellino presso la sede del Partito Democratico per parlare del progetto ma anche di acqua rifiuti e parchi L'Irpinia Sostenibile è il titolo dell'incontro introdotto dal segretario Nello Pizza a cui ha partecipato anche il candidato sindaco Antonio Gengaro Per il braccio destro del governatore De Luca l'istituzione del Parco del Fenestrelle è un impegno mantenuto e sarà uno strumento utilissimo per lo sviluppo di un'area molto importante quella che unisce il capoluogo ai comuni vicini un unicum territoriale su cui bisogna sempre più investire La regione ha adottato l'atto costitutivo di questo che è un parco di interesse regionale voi sapete che sono i parchi nazionali in Campania per capirci il Vesuvio e il Ciletto poi sono i parchi regionali per capirci qui il Partenio poi sono i parchi di interesse regionale cioè sono parchi che incrociano in realtà già antropizzate urbane con la riqualificazione ambientale Fenestrelle ha tutte le caratteristiche per esserlo e noi abbiamo approvato una delibera che d'altronde recepisce ciò che i comuni avevano proposto e io credo che nelle prossime settimane arriveremo a una fase più operativa non deve essere un parco da incorniciare deve essere un luogo di rapporto vivo dei cittadini soprattutto dei giovani con la natura e col paesaggio torniamo a Benevento mio figlio Gio Gio influencer di bellezza ora voglio portare ai ragazzi il suo messaggio così Daniela Di Maggio la mamma di Giovan Battista Cutolo il 24enne ucciso a Napoli dopo una futile lite alla memoria del giovane musicista è stato assegnato un premio vediamo quattro morti sul lavoro in pochi mesi nel Salernitano l'ultima vittima il 65enne imprenditore Mario Delì ha ritrovato lunedì mattina schiacciato dal suo trattore nel suo terreno in località Macchia a Monte Corvino Rovella l'incidente si sarebbe verificato domenica inutili soccorsi da parte dei sanitari del 118 allertati da un dipendente della sua officina per liberare il corpo del 65enne si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco sulla vicenda indagano i carabinieri da una prima ipotesi pare che il pesante mezzo abbia travolto l'imprenditore a causa del cedimento del terreno sul quale si trovava dolore nella comunità salernitana dove la vittima era molto conosciuta l'appello disperato dei sindacati oggi contiamo un'altra morte sul lavoro sicuramente l'agricoltura e l'edilizia la fanno da padrone in questo momento non è possibile più come dire andare avanti in questo modo il governo deve prendere atto rispetto alle iniziative che le parti sociali stanno mettendo in campo ribadiamo che sono aspetti estremamente delicati e vanno trattati con delicatezza e vanno trattati in maniera risolutiva è quello che noi vediamo che il governo non prende in mano ogni giorno si contano minimo in Italia tre morti sul lavoro ormai è un bollettino di guerra e c'è bisogno c'è esigenza di più ispettori e più controlli e adesso andiamo a Benevento come annunciato prima dove c'è stata la visita della madre di Giovan Battista Cutolo che ha ricevuto un premio alla memoria sentiamo tantissimi ragazzi sono stati colpiti dalla tragica vicenda della morte di mio figlio e lottano per stare dalla parte della giustizia e della bellezza il mio impegno è per i più giovani nel segno di GioGio è la toccante testimonianza di Daniela Di Maggio la madre di Giovan Battista Cutolo il 24enne ucciso a Napoli dopo una futile lite alla memoria del giovane musicista è stato assegnato un premio nell'ambito del festival il mio amico Massimo dedicato a Troisi ed in programma a Benevento che questa mattina ha ospitato un convegno sul tema delle devianze minorili mio figlio ha creato uno tsunami di bellezza intorno a sé il vero influencer da prendere come punto di riferimento in quest'epoca è Giovan Battista Cutolo un ragazzo che praticava la bellezza la gentilezza ed era sempre pronto ad includere tutti io credo che se i ragazzi si ispirino a mio figlio possano avere un futuro migliore tra gli ospiti anche il garante per i detenuti della campagna che ha diffuso numeri allarmanti nel 2023 ci sono stati 356 delitti commessi da minorenni in regione sono arrivate alla microcriminalità passando dal disagio alla devianza il comune denominatore è stato la mancanza di una scuola di una famiglia allora si potevano prevenire anche questi reati e negli istituti minorili di Nisi di Airola la situazione non migliora tra evasioni aggressioni sostanze stupefacenti ma anche atti di autolesionismo e suicidi chi si occupa di questi minori al di là del dibattito ideologica piuttosto che punire vediamo di accudirli quando entrano in carcere perché se ne salviamo qualcuno è un esempio di testimonianza per tanti altri gli 800 anni della Federico II oggi la giornata dello studente federiciano con due ospiti d'eccezione Vincenzo Salemme e l'arbitro Fabio Maresca sentiamo al Via Napoli la settimana clou delle celebrazioni per gli 800 anni dell'università Federico II che si sono aperte mettendo al centro gli studenti con eventi in programma proprio per la giornata dello studente federiciano federiciano gli studenti sono il fulcro di questa comunità e quindi oggi come otto secoli fa dedichiamo a loro l'apertura di questa settimana in mattinata incontro con il regista e attore Vincenzo Salemme il teatro insegna sempre alla vita ma non deve insegnare nulla il teatro va vissuto come la vita mi raccomando viviamo il presente il teatro è l'arte di vivere il presente grazie ciao a dare il via alla festa sono state le premiazioni delle squadre che si sono sfidate nei primi tornei sportivi federiciani di calcio a 5 dedicati alla memoria di Fabio Buoninsegni studente arbitro di calcio pallavolo tennis e gare di atletica a premiare la squadra vincitrice del torneo è stato l'arbitro Fabio Marisca nonostante l'impegno importante della carriera universitaria continuare a praticare sport a qualunque livello direttantistico c'è anche oggi la figura dell'atleta federiciano che è riferita a ragazzi che praticano sport a livello agonistico sia fondamentale per avere un equilibrio della mente e del corpo negli anni più importanti della propria vita torniamo ad Avellino dove resta un mistero la riattivazione della metro leggera e sull'opera i cittadini restano molto critici sentiamo resta desolatamente vuota la corsia della metropolitana leggera in via circunvallazione ad Avellino da mesi ormai non la si vede più su strada nonostante sia stato ripristinato all'altezza della rotatoria del teatro Gesualdo il senso unico in direzione piazza Kennedy opera inutile non funzionale per la città la gente quasi se n'era dimenticata se non fosse per le ripercussioni sul traffico nella zona in questa zona spesso si blocca il traffico la rotatoria è un po' costretta forse il traffico spesso si blocca e si procede ad agio io vengo col pullman la mattina da Salerno per lavoro e noto sempre questo traffico abbastanza sostenuto il traffico c'è specialmente nelle ore importanti cioè quelle delle scuole dell'uscita e dell'ingresso certamente la metropolitana è rimasta al palo possiamo dire visto che ne abbiamo tanti in città quando una cosa non va non è voglio dire funzionale sarebbe opportuno abrocarla mi riferisco alla metro in modo specifico ma nello stesso tempo rivedere diciamo la funzionalità del traffico in questo tratto è importante ha notizie della metropolitana leggera? della metro non ho alcuna notizia infatti me l'ho chiesto anch'io come mai non circola più per le strade di Avellino ma io l'ho vista una o due volte questo è tutto era un progetto assolutamente da fermare sarebbe stato opportuno e abbiamo fatto più bella figura in sede europea a restituire fondi piuttosto che fare uno per i nulli soldi sprecati ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale prima di chiudere vi ricordo l'appuntamento alle 20.30 con l'ultimo appuntamento con 8 gol questa sera in regia Orlando Matarazzo grazie per averci seguito arrivederci a presto 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 a presto